Guardate, ecco, l'uomo che cammina con le ruote, che sono più piccole dei suoi occhi, guarda, sembra un monociclo, guardate. Guardate le gambe, come le deve mettere per evitare di ciaccarsi seriamente. Poi è sempre lo stesso, povero Dio che si butta da sopra dei torri, è sempre lo stesso.